Dopo aver alzato al cielo il Meisterschale per due volte consecutive, gli occhi sono tutti puntati sul Borussia Dortmund, che inizierà la stagione di Bundesliga nell'anticipo di venerdì sera contro il Werder Brema, ma il tecnico Jürgen Klopp prova subito a smorzare gli entusiasmi. Venerdì non possiamo fare più di tre punti, quindi nessuno dovrebbe aspettarsi niente di più di una vittoria. Siamo felici se la gente uscirà dallo stadio convinta che quella in maglia gialla è sempre la stessa squadra, pronta a gettare il cuore oltre l'ostacolo come l'anno scorso. Se ce la faremo allora niente sarà impossibile. Nonostante una stagione memorabile, culminata nello squillante 5-2 contro il Bayern Monaco in Coppa di Germania, Klopp pensa che i suoi possano ancora migliorare. Dipende da come giocherà la squadra, penso comunque che si possano migliorare ancora diverse cose, per esempio essere più pratici davanti alla porta, giocare con più testa. In un'intervista appena fatta ho detto che è rarissimo che quando una squadra non gira sia un giocatore a cambiare tutto, i ragazzi sono già ad un livello talmente elevato che non credo sarà un singolo a cambiare le cose. Le speranze di difendere il titolo del Borussia sono aumentate vertiginosamente dopo aver respinto un gran numero di avanzi per l'attaccante simbolo polacco Robert Lewandowski. L'incontentabile Klopp però ha un sogno nel cassetto, riuscire a tradurre i gran risultati in Bundesliga nel palcoscenico che conta, quello della Champions League, Kagawa o non Kagawa. Grazie.